Ehi tu, chi sei? Ti ricordi quel bambino che hai picchiato? Bene, ero io Quel bambino? Era una ragazza? Godo come un riccio Godo come un riccio Poche storie Tu hai mandato all'ospedale un mio amico e ancora è paralizzato Ora basta Col mio stand ti faccio vedere Dio Occhio di Rò Prevedibile Riesci a prevedere il mio attacco? No Ti posso picchiare un po'? Ti piace? No, proprio no Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è . Grazie a tutti